e ciao ragazzi bentornati oggi airvibes nuova coppia da unboxare e speriamo oggi chi puntiamo di trovo chi è ok ci sto vai sigla e via il video e già che ci siete iscrivetevi al canale e lasciate like la prima segnerina è andata liscia come il... no è rosa abbiamo finito quelle ore credo la prima segnerina è andata bene la mia è fuzia la tua? rosa qua twinning is winning io ho trovato le sorelline gemelline con la coppa che sai qualcosa? no stai facendo delle ipotesi tu invece hai trovato quello con la borsetta, la shopper e la bambinetta io sono già al mio secondo strato come fai averlo capito così? ah io l'ho capito così sentite è dal rumore ho capito chi è no dal rumore è impossibile io lo faccio sempre così guardate grazie si è vero mi pare le bustine 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 ho poi realizzato che i capelli non ce li hanno perché ci sono le parrocchie vediamo? fai allora no questa no? no questo è il bibe voglio il bibe generico il mio biberon bianco e rosa mi piace quello che hai trovato tu tu hai capito della mia che può essere? col biberon bianco e rosa? si si dimmi chi è ha capito vabbè vediamo se l'avete capito anche voi da questo vestitino che carino gonnellina scozzese e magliettina a righete che bello questa cintura la cintura vuol cuore ma che hai trovato il maschio no? che hai trovato? non c'è stato a capire niente la fluo non c'è vabbè io ho capito la mia perché l'ho vista ma la tua no poi qui ci sono il cervello io ho trovato il cervello che è mezzo arancioncino e mezzo marroncino ma che non ce l'ara perde dei pezzi la testa dal tavolo perché come sei fatto a te dai la botta al tavolo e rompi il tavolo queste scalpe meno male che posso metterle nelle dita stivali alti sono tornati gli occhiali un po' stile rollina un po' come quelli di bonbon ma un po' più carichi biberon rossa e verde fularino arancioncino questo è proprio il colore arancione non è arancione è arancioncino piccolino non piccolo arancione arancioncino che è più chiaro qui c'è il pettinino ovviamente arancioncino anche lui e qua le scarpine stupende che sono tipo quelle di tipo neon come colori arancione rosa e bianco hai trovato un mantello un supereroe quindi la tua non guardare la checklist poi io sono pronta tu ancora sei caro amico quante bustine c'è da aprire ancora questo body cos'è body vediamo un costumino tipo da supereroe io sono che carino io sono la lolla tu continui a far casca cose oggi sono negata ho delle mani bucate le casca tutto dai su lol con le mani lol sei pronta oh quanto è scura che carina quanto è neon l'ha trovato glow girl eccola è bellissima e invece l'ha trovato la mia burrina d'orachidi peanut butter cioè sarebbe peanuts butter però è un po' slang l'hanno un po' accorciato oh quanto è carina questa è veramente bellissima è un visino stupendo queste lenticcine qui è fantastica tra l'altro è uscita perfetta devo dire tutta questa serie sta uscendo veramente ok zero doppimenti zero errori ok 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 le andiamo a buttare nel congelatore perché come oggi per te ho capito buttare al secchio no buttiamo oggi apriamo le lol e le buttiamo no le andiamo a mettere nel congelatore perché tutta la serie Air Vibes cambia colore quindi non avete da cercare la lol fortunata perché tutte lo saranno quindi le vado a congelare e questo è dopo il cambiamento qua è uscita una mascherina molto visibile vedete è uscita una mascherina nera e vediamo un po' anche la retina sui braccioli che sono anche più scuri rispetto a prima mentre invece la nostra peanut ha come il cambiamento ma che cambiare niente mentre lei non è che si è cambiata così tanto devo dire non noto tutta sta differenza tra il prima e il dopo si è leggermente colorita eccola qui sul body vabbè ecco le iconiche codine di pinapatta non so come chiamarla mentre qui ha la coda e il ciuffone per glow girl invece super fluo codine e ciuffettone primo look e vestite e chioma lunga frisata sempre super fluo secondo look e poi anche così che carina che bella che è un'altra coppietta ce ne mancano soltanto due se avete seguito gli altri video dovreste già aver capito che ci manca rivediamole un po' insieme così magari vi ricordate queste erano mascherade e black belt passiamo a queste altre due qui c'è jelly jam e supreme queen che era rara come vedete qui vi mostriamo tutti quanti i loro possibili outfit queste sono molto molto pecorelline sono molto riccioline sono troppo carine andiamo avanti wow la mia top scuba babe e rhymes che in checklist non mi piaceva invece secondo me dal vivo è fantastica è troppo carina con le treccine sulla frange e il resto tutto spettinato qui andiamo verso disco queen che è un po' veramente tanto capellona e una che adoro tantissimo che è super star mi piace un sacco con le codine e anche con la coda alta questo è un altro look come vedete disco queen può essere anche un pochettino più diciamo sobria con la cuffietta invece che i capelli e qui invece è metà treccine e metà capelli sciolti invece super star ha tutti quanti i look che si assomigliano moltissimo tra di loro ma guardate che faccina è troppo dolcina le avete viste quasi tutte ne mancano ancora vi ricordate quali sono? se non l'avete capito continuate a guardarci nel prossimo video ragazzi un bacio a tutti quanti ci vediamo ancora in questo canale nell'altro canale e soprattutto anche su mega wow un bacione a tutti quanti ah subiteci anche su tiktok e su instagram da lui ciao 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 ciao